Santa Irene di Lecce Sarebbe vissuta nel IV secolo e sarebbe stata figlia di Vicinio, il futuro imperatore e amico del grande Costantino. Si racconta che quando aveva sei anni, il padre la chiuse con tredici serve in una torre, dove fu istruita da un angelo e poi battezzata. Venuto a sapere della conversione della figlia, il padre la legò a un cavallo, che invece di trascinarla via, lo morse causandogli la morte. Grazie alle preghiere di Irene, Licinio tornò in vita e si fece cristiano con la moglie e 3000 sudditi. Irene venne poi arrestata e decapitata. Anche i copti, cioè i cristiani dell'Egitto e la chiesa dell'Etiopia, onorano una santa Irene e tramandano che sia stata figlia di un re, Licinio. È patrona di Lecce, dove in una delle più belle chiese barocche della città sono conservate le sue reliquie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.